La Procura regionale della Corte dei Conti ha chiesto che l'ex sindaco Rossana Di Bello, l'ex assessore Filippo Condemi, l'ex segretario comunale Luigi Spada e l'architetto Marcello Uozzo risarciscano il comune di Taranto con la somma di 7 milioni e mezzo di euro, fatti riferiti ai primi anni 2000, quando l'inceneritore di rifiuti di proprietà del comune venne affidato ad una associazione temporanea di imprese per una cifra ritenuta esorbitante. Ci fu la denuncia da parte dell'Amius Mal, la società che perse l'affidamento, e partì un'articolata inchiesta. Poi il processo. Di Bello ne è uscita completamente assolta, condannato con demi, prescrizione per spada e vuozzo. Ma ora la Procura della Magistratura Contabile non ha fatto differenze. Ha chiesto che tutti e quattro paghino in solido tra loro il risarcimento all'ente comunale, quantificato appunto in 7 milioni e mezzo di euro. Poco meno di 2 milioni a testa. I legali dell'ex sindaco hanno sostenuto l'insussistente responsabilità della loro assistita. La Corte dei Conti si è riservata di decidere.